Alle giovani generazioni, ai meno giovani che hanno dimenticato con troppa raffinità le loro radici, affido a questo novecento, in cui ho cercato di raccontare con tutta la mia forza e tutto il mio talento alcuni pezzi di storia lombarda ed italiana. Io ritengo che la conoscenza del proprio passato sia la condizione necessaria, anche se non sufficiente, ad un'aneguata progettazione del proprio futuro. Possa questo modesto progetto essere una pietra, una piccola pietra, nel processo di ricostruzione data a memoria. Sono consapevole che il domani sarà costellato di sfide difficili ed inedite. Ma quale che sia il nostro futuro, se all'umanità è data una possibilità, essa non può che avere come metà la libertà e come porto di partenza la conoscenza. E quale che sia il valore di novecento, non alla mia volontà, ma alla mia incapacità, sia in tutti qualsivoglia difetto. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la libertà!